C'era un accordo fra di noi che non sbagliava quasi mai, più che fratelli tu lo sai. Io le mie avventure, tu le tue, c'era una stanza presa in due, che tirare a sorte chi ci va. Poi raccontarsi come fu e inventarsi qualche cosa in più e dirsi da domani un'altra e via. Sinceramente non lo so se cerca il mano oppure no, la donna giusta prima o poi. O se solo per spavalleria o per stupire la compagnia, via si diceva da domani un'altra e via. Poi la donna che vuoi nascondere, non racconti quello che fai con lei. Guai, parla a mio nostro modo, tu non sei più più. Cosa dirti, tu non ti crederai? Cosa dirti, tu non mi ascolterai? Bene, quando è così, amico mio, peggio per te. Un giorno lei cercò di me, mi chiese più o meno se non mi ero accorto mai di lei. Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia adesso qui come si fa? Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia adesso qui come si fa? Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia adesso qui come si fa? Certo io non l'ho mandata via e lei si illude di essere mia adesso qui come si fa? dicendo io non l'ho mandata via Grazie a tutti